...viste raccolte e contenute nel primo annuario, la cui prima pubblicazione è datata al 2000. Purtroppo questi sono gli anni 30, che ospedano le prime classi nella sede attuale, gli anni delle dittature, delle leggi raziabili, del lavoro e convento dello scopo del secondo conflitto mondiale. Ma sono altri anni dello Swing, di Maramò perché sei morto, di Pippo non lo sape. Nel 1939, a San Sinone, si svolge l'ultimo esame di maturità, che ha una commissione di professori tutti esterni, presieduta da un libero docente universitario, perché quando troppo scoppia la donna. Salve a tutti, giornale già per il terzo A. Il nostro lavoro è un'opportunità, giugirà come l'istituto, che si comune di fare un viaggio nel tempo per far vivere, anche solo per brevi secondi, alcuni momenti significativi degli anni di sui da liceo classico. Ci siamo chiesti, e se le aule dovessero parlare, rimandare pensieri, fatti e le azioni della storia? E così, annullando le barriere temporali e la funzione clinica, abbiamo immaginato di ritrovare tutti gli ex-alunni, i quali, per sempre giovani tra le nostre mura, ci raccontassero qualcosa della loro vita. Passeggiando tra i condivitori della scuola, abbiamo aperto le porte delle aule, ritrovandoci le voci degli studenti del liceo, le lezioni dei professori serenti.